Ora invece il Parma Calcio Femminile, oggi il nuovo allenatore delle crociate, è stato ufficialmente presentato al Centro Sportivo di Collecchio. Ascoltiamo le sue parole. Sono orgoglioso di far parte di questo progetto. È una grande opportunità. Non voglio che ci siano solo parole di circostanza, ma l'impatto è stato molto positivo. Ho trovato parecchie persone che lavorano H24 con me, per me. I presupposti sono molto positivi per poter raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Con il lavoro, con entusiasmo, perché credetemi, come ho detto pochi secondi fa, è un'opportunità che voglio cercare di prendere al volo, perché vengo da una lunga cavetta. E spero che questa sia una possibilità che possa esaltare le mie qualità di tecnico.